allora apriamo i regali di natale sto prendo i miei parlare sempre dentro quale microfono è caduto qualche cosa e non sono i miei cosa è caduto è caduto quello rosa c'è qualcosa va bene non si sa di bene che cosa buonatale ragazzi buona lettera non posso leggere la tua voce questo personale benissimo franca ma guarda qua tutta scombina auguri coro auguri amore mio allora auguri ragazzi buon natale e prendilo come viene lo scritto fuori veloce l'altra sera buonatale bellissimo amore aprire a sto posso prendere è meglio anche questo questo non lo posso pensare che questa è tutta una cosa ha regalato un sacco di cose regalate si questo l'ho già visto lo voglio per ultimo troppo bello e ora non mi chiedere cosa voglio aprire scusami se mi se mi dice bello questo sacchetto adesso lo faccio incasinare perché gli ho fatto la chiusura strana in alto ha scritto meri crystal quando riesco ad aprirlo così certo attenzione mi pare che io non registro orca è morbida capito ma sto aprendo tanti auguri alle che cosa c'è a queste cose vanno dentro non mi sto divertendo da per i miei regali per tutto tu ma porca miseria ok questo so che cos'è questa cosa mi sembra mi sembra una calza mi sembra è un cappello no che bella a che figo capone lo provo il cappello di sonic un secondo ave le cuffie non servono un secondo che bello è questo bellissimo cappello di sonic ho guardato aspetta non ho capito c'è una cosa che è molto morbida amore te l'ho preso nel reparto bambini perché non c'è per i grandi sogni effettivamente sai andare in giro con un coso con l'orecchio e da uomo questo coso è gigante ed è morbido nooo vabbè ma che cos'è nooo vabbè aspetta che lo apro ma che figata che è la cartaccia questo lo mettiamo da qualche parte è un peluche gigante del pomodoro che c'è un nome che non mi ricordo no è meraviglioso raga però lo mettiamo qua che gabibo dai non gli prendo il gabibo sembrava il gabibo no invece è bellissimo questo lo so questo tipo mutande aspetta devo farlo anch'io devo farlo anch'io mutande natalizie ragazzi che belle che sono amo come c'è un paio più belle mutande natalizie le mettiamo qua mutande per ultimo c'è qualcos'altro ancora di morbido le mutande dell'ultimo ragazzi ah le mutande dell'ultimo si sono attaccate sbrook le mutande potrei andarci in giro come pantaloncini raga sbrook mutande dell'ultimo dell'anno bellissime che belle che sono c'è una scatoletta c'è una scatoletta c'è una scatoletta ma è una lampada è una lampada no che bella è una lampada di super mario posso aprirla una lampada non sono le mutande della nonna vuoti di questo vedi che si vede tutto dentro ma che figata non l'avevo visto il paese ma si accende e magari ci manca la batteria proat mutande super mario raga c'è mutande super mario questo la mettono poi qua insieme alle cose bellissima l'accendiamo in live ma si accende no si spegne andiamo ci vogliono le pile però è meraviglia grazie amo c'è e questo era il primo dei tre sacchetti tanti auguri buon natale fedeli canabertu me li da lei non posso scegliere voglio questo grazie voglio questo what is this what is this devi fare come prima dai piano piano uno tirane fuori uno sganciane uno ma ce la faccio anche se buon natale se ne sgancia uno se ne sgancia è roba morbida questa maglietta questa è una maglietta è un bambino felice vediamo bella sbronk maglietta playstation prot bella auguroni il pedro tanti auguri ragazzi da sudare in live auguri alle vostre famiglie grazie amo c'è qualcos'altro finito? caccio le mani mi caccia via le mani è mio io ho capito ma come fare amo vorrei dirti una cosa no mi sta schiacciando il cervello questo 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 cappellino andiamo xxl ovviamente e per forza che ci prendo ce n'è un'altra what is this what is this bro no dove l'hai trovata no questa devi dirmi dove l'hai trovata no raga sbronk siga master system dove l'hai trovata questa dai non è possibile bella eh no è meravigliosa non è bella ed è originale della sega pro cos'è bella poi anche bianca sta benissimo per il contrasto delle luci grazie c'è n'è un'altra c'è n'è un'altra non so dove si è andata a prenderla what is this un'altra maglia sbronk 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 street fighter ragazzi sono le undici la gente ancora sta dormendo sbronk cos'è bella sono tutte originali eh raga pro no è il tarocco gli è regalo grazie amo e qui si fa la storia non si fa pro io non lo aprirai perché il il pacchetto è meraviglioso il pacchetto è buon natale è troppo bello io ancora dormivo alle sette e mezza io stavo già facendo colazione cos'è perché è peruta ah questo è peruta perché l'ho deciso io giusto c'è una roba un po' più dura una roba un po' più morbida questo 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 cosa è bellissimo questo sacchetto attenzione attenzione wow l'ho già visto dalla cam sbronk no che bella no che bella pro ma a noi gli piacciono questi regali si si io voglio questo di regalo ragazzo le magliette cosa è bella quella di donkey kong pro è un bambino fortunato buon natale ragazzi che figata buon natale alessandro quella di donkey kong è meravigliosa è proprio meravigliosa sono stupende le magliette dice valius c'è qualcosa queste sono mutande o calze attenzione è una sciarpa veramente pruot madonna cosa ti ho lasciato ti ho lasciato sul coso il prezzo no questo cosa eh ma porca troia ma ci ha attaccato il ci ha attaccato l'antitaccheggio scusami come cazzo la metto questa cioè la metto in un supermercato mi saltano addosso figa ma scusami come ha fatto non toglierti l'antitaccheggio e come cazzo sei uscita dal negozio adesso dimmi dove cazzo hai preso queste cose dai che ah si ma vado a staccheggiarlo l'hai ciulato no come hai fatto ma non l'ho ciulato l'ho preso ma perché deve far ridere anche aprire regali di natale sciarpa di natale con antitaccheggio bellissima questa questa la uso anche per la moto te lo dico si va benissimo sbronk the last one c'è su Luigi è un telo da bagno e non lo so perché quello con Mario era finito guarda come beh chi è che se lo caga Luigi effettivamente aspetta un attimo vuoi che ti prendevo la principessa no va benissimo Luigi a questo momento basta una calamita per toglierlo sciuta ah ok come fai con la calamita a toglierlo sbronk è un è un è un telo bidet no nel senso è un asciugamano no non è un asciugamano cosa vuoi che mi asciugo con questo la faccia e le mani ah è un asciugamano per la faccia sbronk vabbè Luigi non è male insomma ragazzi i regali di natale da sciuta li abbiamo aperti ringrazio la pomina grazie amore mio e noi andiamo avanti con la live ma io fermo un attimo la registrazione del video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie.